musica allora eccoci qui per la prova di caccia al tesoro abbiamo già visto uno script per fare dei quiz adesso vediamo uno script un pochino più sofisticato che consente di costruire delle vere e proprie caccia al tesoro quindi abbiamo, adesso qui l'ho messo sequenzialmente uno dietro l'altro una volta voi questi oggetti li potete mettere ovunque li chiamate ad esempio questi li chiamate tappa 1, tappa 2, tappa 3 li potete nascondere dove volete li potete mettere anche non in scatole ma in cose diverse cose fosforescenti, animali eccetera l'unica cosa interessante è che sopra c'è scritto questa cosa e quando lo clicco c'è scritto il nome della persona che sta partecipando alla caccia al tesoro quindi ad esempio se io faccio parte di un gruppo che sta facendo la caccia al tesoro potrei avere una sequenza di test di questo tipo di un colore, per esempio bianco e quelli che stanno, le altre squadre potrebbero per esempio fare seguire invece negli stessi posti o in posti diversi delle domande differenti allora come funziona la caccia al tesoro lo script della caccia al tesoro funziona che quando clicco lui praticamente cosa fa? ah ok adesso in realtà questi oggetti sono stati già usati quindi li devo resettare ricordiamo che l'owner di un oggetto di questo tipo deve essere sempre in grado di poter fare il reset quindi possiamo fare ricostruisci script facciamo rimposta script ok poi mi sembra di aver messo anche un comando remoto per fargli fare il reset comunque adesso una volta che è resettato quindi cosa succede? che perché prima lui si è ricordato e ha già fatto il giro la prima tappa del tesoro dovrebbe essere disponibile senza particolari formalità cioè io clicco e lui mi dovrebbe fare una domanda quindi clicco e mi dice ok per far partire la caccia al tesoro io devo rispondere a delle domande ad esempio qual è la capitale della Francia? se io questo è il primo tentativo se io gli dico Roma sbagliando vedete che dice la risposta è sbagliata quindi vado via e fine ma se io riprovo a questo punto cosa succede? che io mi riconosce perché lui c'è un database di tutte le persone che hanno partecipato capisce quindi che sono al tentativo 2 se gli rispondo giusto adesso mi dovrebbe dire che la risposta è giusta e mi dà un regalo in questo caso sono delle monete d'oro, d'argento e di bronzo mi dà di solito la moneta d'oro se è la risposta giusta al primo tentativo d'argento al secondo tentativo e così via e se impiego più di tre risposte ecco vedete che c'è anche un time out tempo scaduto in modo perché mentre sta rispondendo a me in teoria un altro non può rispondere quindi riportiamo tentativo 2 gli rispondo giusto e vedete che avendo risposto giusto ma al secondo tentativo ho ricevuto una moneta d'argento e poi mi dice la risposta è giusta e mi dà la password per aprire l'oggetto successivo che è il 5688 e mi dà l'inizio per andare a cercare questo oggetto quindi a questo punto mi devo assegnare il 5688 l'inizio adesso qui dice fiori verdi potrebbe essere qualunque cosa quindi io devo andare alla ricerca del prossimo inizio e abbiamo detto il 5688 giusto? mi ha detto quindi cliccando vedete che a questo punto non posso aprirlo quindi non posso andare in un posto fuori dell'ordine costituito devo per forza digitare la combinazione quindi 5 ah no devo rifarlo perché è passato troppo tempo quindi 5 6 8 8 allora 5 6 8 8 8 invio ok ah non è la parola giusta è interessante ah perché c'è una cosa in più di questo facciamo il cancelliamo e proviamo allora 5 6 8 8 invio ah ok giusto quindi la domanda me la fa soltanto se ho digitato la parola chiave corrispondente ok quanto fa 3x3x3 fa 27 e gli mettiamo 2 vedete che 2 fa 27 quindi 2 mi ha consegnato la medaglia una medaglia d'oro e a questo punto mi da la password per il prossimo per il prossimo oggetto e l'indizio per andare a cercare 4411 quindi vado nell'altro e a questo punto cliccando qua cosa succede che devo scrivere la password 4411 invio e a questo punto sono a trappa 3 e gli dice se voglio il tesoro devo dire sì in francese e quindi sarà ovviamente UI2 se faccio UI2 viene dato l'oggetto tesoro ok allora questa qui è la teoria quindi qui c'è un semplice script dentro questo script è lo stesso in tutti e tre i casi vediamo adesso come è stato modellato diciamo lo script è complicato quindi vedete che dentro ogni oggetto bisogna mettersi appunto gli regali quindi oro argento quindi il frattempo è scaduto oro argento e bronzo e poi lo script famoso quindi lo script ha all'inizio fondamentalmente in riga 1 la password che se vuota non viene chiesta quindi il momento iniziale la password sarà vuota altrimenti sarà la password necessaria per registrare per poter aprire questa cosa ok se invece viene indovinato la prossima password sarà quella del seconda tappa qui in dovinello dovete scrivere qual è la capitale della francia attenzione quando se le modificate non dovete togliere questi apicetti all'inizio in fondo e poi le risposte possibili sono queste ricordate che la risposta buona è quella che c'è un asterisco in testa e poi se ha indovinato l'inizio viene specificato qua l'inizio quindi dovete modificare qua e poi la lista di regali quindi oro se ha risposto esattamente alla prima domanda argento se ha risposto entro la seconda domanda bronzo e se invece ci ha impiegato più di 3 tentativi non da nulla qui ovviamente le risposte possono essere anche più di 3 possono essere anche 4 5 6 insomma qui potete sbizzarrirvi e questo è un po' tutto quello che è necessario per da modificare qua dentro nel caso che il timeout avete visto che il timeout può essere un pochino troppo veloce eventualmente c'è un a un certo punto vedete che la riga 53 c'è un ll7 timer event a 10 secondi questo per l'invio della password della password originale l7 timer event a 10 e ci sono eventualmente anche altri l7 timer event in giro eventualmente facciamo ctrl f l7 timer event e proviamo a cercarli allora qui ecco questo qui il tempo necessario per indovinare la domanda è 30 secondi e qua i 10 invece per la password e basta quindi sono 10 e 30 se per caso questi tempi fossero troppo troppo bassi li potete aumentare in quei punti lì ok quindi andando avanti abbiamo nella tappa 2 che è questo abbiamo detto vedete che tra l'altro si ricorda di me quindi facciamo tappa 2 modifica e qui lo script della tappa 2 sarà uguale all'altro solo che la password sarà quella necessaria per aprirlo questa è la prossima password e poi abbiamo la domanda e le risposte anche qua la risposta è giusta al prefisso asterisco il prossimo e così via il moneta d'oro e d'argento eccetera nel terza tappa nell'ultima tappa vedete che c'è allora io gli ho detto di dare tesoro ma che non è dentro quindi lui probabilmente avrà cercato di darmi tesoro e non è riuscito a trovarlo se no potete scaricare del vostro inventory qualunque cosa e qua dunque prendo lo script se me lo lasciassi aprire va bene non me lo lascio aprire comunque qui è la facciamo così no di solito quando succede così facciamo un prendi lo prendiamo e lo tappa 3 lo rirezziamo e di solito questo trucco aiuta ecco vedete che se si apre quindi la passo è il 4411 e qui abbiamo next pass nulla perché non abbiamo è finito il test e poi rispondi si in francese si yes con l'asterisco e poi si l'indizio e c'è terminato la caccia del tesoro ecco il premio e gli da le varie cose ora qui la cosa che viene consegnata quando si indovina può essere qualunque oggetto che abbia quel nome quindi al posto di argento bronzo e oro potete mettere una note card che si chiama in quel modo oppure addirittura un oggetto che magari loro possono rezzare indossare e che possa contenere tutto quello che volete nel caso specifico argento che ho fatto è semplicemente una monetina in cui gli ho messo uno texture e così via sono proprio delle monete che vengono date qui la cosa interessante che si può fare è appunto contare per essere sicuri di come le persone abbiano reagito e controllare nel loro inventory che abbiano le monete giuste per evitare che loro si copiano le monete potete metterle nell'inventory in modo tale che non siano full permission vedete che adesso queste qui sono full permission ma nell'inventory potete fare in modo tale che le varie monete siano ad esempio non trasferibili in modo tale che se sono dei beni i ragazzi non possono passarsene o ricopiarsene l'una nell'altra benissimo questo script qua lo allegherò al video youtube che sto facendo e comunque cercheremo in una delle prossime lezioni di organizzare proprio una lezione basata su questi oggettini quindi mettendo questi oggettini in varie sims bars di edmondo vedremo se ce la faremo allora per il momento vi ringrazio e ci sentiamo alla caccia al tesoro